Oggi è la festa di San Luca Evangelista e nella seconda lettura dell'Ufficio delle letture c'è un brano tratto dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno, Papa, Papa che è morto nel 604 d.C., quindi nel VII secolo, quasi più o meno 1500 anni fa. E ci sono delle parole che mi colpiscono vivamente perché le trovo quanto mai attuali. Sentite cosa dice. Ascoltiamo quello che dice Gesù nell'inviare i predicatori. La messa è molta ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Commenta San Gregorio Magno. Per una grande messa gli operai sono pochi. Di questa scarsità non possiamo parlare senza profonda tristezza, poiché vi sono persone che ascolterebbero la buona parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il mondo è pieno di sacerdoti e tuttavia si trova assai di rado chi lavora nella messe del Signore. Fortissime queste parole. C'è pieno di sacerdoti ma pochi che predicano la parola del Signore. E continua. Ci siamo assunti l'ufficio sacerdotale ma non compiamo le opere che l'ufficio comporta. Chissà se questa mattina tutti i sacerdoti sono andati un po' in crisi leggendo queste parole di San Gregorio Magno Papa. Se si sono domandati ma veramente io porto la parola di Dio, quella che salva, quella che redime, quella che dà speranza, ma non le speranze fugaci, umane, di un'ideologia del progresso che andrà tutto bene, tutte sciocchezze, sciocchezze umane che non sono fondate nella parola di Dio e che ingannano e quindi deludono. Ma la vera parola di Dio, quella che risolleva dall'unico vero male del mondo che è il peccato e porta a vivere in grazia di Dio. Continua San Gregorio. Perciò riflettete attentamente fratelli carissimi sulla parola del Signore. Pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Pregate voi per noi perché siamo in grado di operare per voi come si conviene, perché la lingua non resti inattiva dall'esortare e il nostro silenzio non condanni presso il giusto giudice noi che abbiamo assunto l'ufficio di predicatori. Il rischio, dice San Gregorio, è quello di tacere. Che la lingua resti inattiva dall'esortare e il silenzio non ci condanni. Noi che dovremmo predicare e predicare no qualunque cosa, no le nostre idee, non le ideologie, le mode ecclesiastiche del momento, ma quello che Dio vuole è che è sempre lo stesso ieri, oggi e sempre e non cambia, non cambia mai. Non succeda che con la scusa di cambiare il modo di esprimere quello che Dio ci dice si finisca per cambiarne il contenuto. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.